La Gelbison, grande protagonista nella prima parte della stagione, con il giro di Boa sembra aver smarrito la verve giusta, tanto da non riuscire più ad essere incisiva come lo era stata per tutta l'andata, tanto da guadagnarsi l'attenzione di tutti, non solo per i risultati conseguiti, ma anche per il gioco espresso. Da quattro giornate il meccanismo sembra essersi inceppato, tanto che ha messo in carniere solo un punto e in questo 2013 non ha ancora vinto. Cosa sta succedendo ai ragazzi di Erra? La domanda è lecita, solo crisi di risultati o a pagamento per quanto fatto finora? In attesa che le prossime giornate possano servire a chiarire meglio il quadro della crisi rosso-blu, sull'argomento interviene l'esperto difensore centrale Niccolò Pascuccio. Attribuire le cause solo alla dea bendata che da un po' ha girato le spalle mi sembra riduttivo, dice. Ritengo invece che in questa sequela di risultati sfavorevoli ci sia anche del nostro demerito. Innanzitutto non riusciamo più ad andare a rete con quella facilità che ha contraddistinto tutta l'andata. Poi anche nel reparto arretrato abbiamo accusato dei colpi a vuoto. Non ci resta che lavorare e ritrovare la vittoria, già a partire dal match col Palazzolo, per ritrovare la vera Gelbison.